Per la verità bisogna saper condividere insieme tutto quello che è umano. Wiser dice questo è il mio, ma il vostro. Sappiate condividere il poco, l'unico, quel poco che avete. E condividendo questo poco, questo è un'opportunità importante, c'è una cosa che bisogna rinforzare la vita. Perché nel condividere cinque panni e due pesci, la merenda di un ragazzino, qualcuno ha sfamato i vicini di mezzone. Quindi sappiate condividere, si dona. Ciao! 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 Marco Mariae Ciao! 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 Grazie.